Negli Stati Uniti la Longevity Economy vale già 8 mila miliardi di dollari, pari al 40% del prodotto interno lordo. Entro il 2050 l'economia dei prodotti e servizi dedicati agli over 50 è destinata a triplicare, con il progressivo aumento delle aspettative di vita. La nuova longevità rappresenta una straordinaria opportunità di business per le aziende in molti settori, ma mette sotto pressione i sistemi di welfare pubblici e avrà delle implicazioni importanti sulla gestione del patrimonio individuale. Quali sono le sfide che il wealth management deve affrontare? Quali le implicazioni per la gestione dei risparmi e degli investimenti? Quali nuove competenze sono richieste a chi si occupa di consulenza patrimoniale? A queste domande WeWealth risponderà il prossimo 15 febbraio con alcuni dei più grandi esperti di longevity a livello internazionale e con i protagonisti dell'industria del wealth management.